Sono 295 i lavoratori dello spettacolo e le guide turistiche della Calabria ammessi a beneficiare dell'indenità di sostegno di 1000 euro voluta dalla regione. Si tratta di una forma d'aiuto per coloro che appartengono ai settori tra i più esposti al disagio economico e sociale dovuto all'emergenza epidemiologica. Con il decreto dirigenziale numero 1622 del Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo è stato approvato l'elenco delle istanze ammesse e non ammesse per un totale di 347 richiedenti. Di queste, a seguito di verifica, ben 295 risultano riferibili a soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso che assegna il contributo una tanto ma gli iscritti al Fondo Pensioni dei Lavoratori dello Spettacolo con almeno 7 giornate contributive versate e alle guide turistiche in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche. Contestualmente il decreto approva lo schema di convenzione da sottoscrivere con azienda Calabria lavoro a cui è affidata l'erogazione dell'indenità. Portiamo a compimento un altro importante passaggio procedurale, spiega l'assessore al lavoro Fausto Orsomarso, per far arrivare le risorse disponibili grazie alla misura di sostegno e reddito che abbiamo voluto per attenuare la drammatica situazione di disagio in cui versano i lavoratori dello spettacolo e del turismo. Un intervento mirato rivolto a categorie particolarmente fragili ed esposte che rientra in una programmazione più ampia di aiuti che abbiamo messo in campo per procedure veloci e semplificate, per massimizzarne l'efficacia assumendo il preciso impegno di non escludere o lasciare indietro alcun comparto o lavoratore. Proseguiamo con determinazione nella nostra azione di accompagnamento alla ripartenza, guardando oltre la pandemia, al fianco di un tessuto economico e produttivo che chiede lavoro vero e vuole tornare a essere protagonista attivo del proprio futuro e del proprio riscatto.